Per cui ci tenevo lo stesso però a presentarmi. E' un'assemblea pubblica, non è un'assemblea pubblica, è gestione pubblica, perché me lo sottopone su alpetto privato? Vede, vede che purtroppo lei non è a conoscenza di questo. No, io sono a conoscenza di questo, apro le porte, ci faccio sentire questo piano industriale, ma lei lo conosce il piano industriale? No, ma questa dove è stata fuori? No, da Castellanze, si informa, lei lo conosce? Ma torni a Castellanze, lei a Cerini, vada da Cerini a Roccaraballo, venga da me. E a Cerini risponde che non conosce il piano industriale, io rispondo quando mi dico le cose giusto, lei assolutamente non sa cosa sta dicendo, e io con le persone che non sanno cosa dicono, io non ci parlo. Sulla questione di accedere noi, lei parla perché sente le voci in giro, è imbarazzante, lei può aprire il palazzo, lei può aprire il palazzo, ma lei è palazzo, quello che fa impazzire il comune di Castellanze con le sue mille, ho capito tutto, me lo avevo spiegato. Mi hanno detto che lei è strano, mi hanno detto che lei è strano, io ho capito che lei è strano, perfetto, mi fa piacere, dopo un po' la capito.